Bella a tutti ragazzoni e benvenuti nel 78esimo episodio della nostra serie sulla cola Master League con l'Inter Swiss Pro Evolution Soccer 2 Signori, noi veniamo da uno scorso video in cui abbiamo fatto qualcosa di impensabile Abbiamo battuto il West Ham 5 a 2 ed è qualcosa di assurdo Ricordo sempre che siamo in modalità difficile Signori, prima di partire dal video andiamo a vedere la classifica Marcatori che sicuramente è cambiata con Babagita primo a 17 gol E Castello è salito a quota 7 Con la doppietta fatta nello scorso video è salito a quota 7 E gli altri invece niente di particolare Classifica Marcatori, Castello a quota 4 Scusate, mi sono un attimino intoppato Bolat e Cellini a 3 E poi Babagita sale a 2 e Miranda rimane a 2 Detto questo, signori, noi abbiamo 26 punticini Ancora non ci bastano per fare il mercato Quindi andiamo avanti nella partita di oggi e non perdiamo altro tempo Prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto E vi ricordo sempre di iscrivervi al canale Allora, signori Siamo sotto la pioggia Andiamo a caricare la formazione Siamo in trasferta, bene Contro l'Ajax, ottimo Allora, carichiamo la formazione Al solito, signori, io vado a mettere un Ronaldo in campo Perché è sempre meglio un Ronaldo a mezzo servizio che un Bolatta inutile Quindi mettiamo un Ronaldo che, se non sbaglio, sarà sempre infortunato Sì, sì, è sempre infortunato Sono tutti giù, signori, sono tristi Perché piove Perché piove, quindi giustamente perché dobbiamo giocare sotto la pioggia Sono tristi i miei giocatori Non gli va di giocare all'Amsterdam sotto la pioggia Erano venuti per farsi il giro turistico E vedere le bellezze di Amsterdam Ma con la pioggia non hanno potuto fare niente Se non giocare semplicemente a calcio E questa cosa gli ha dato fastidio Gli ha dato fastidio Dice giustamente che paranoia Perché dobbiamo giocare a calcio sotto la pioggia Non siamo potuti riuscire a vedere nessuno dei bellissimi monumenti che ci sono qui Intanto parlando, parlando Babangida stava rischiando di trovare il gol del vantaggio Intanto guadagna una punizione Bravo Bamba Bravo Bamba La batte Miranda, signori La batte Miranda Che cerca Castello Che la stoppa Cerca Langolino Vorlanden Inter in vantaggio sull'Ajax Buono, buono, buono Vorlanden si fa trovare nel posto giusto Al momento giusto Ci ha battata di Castello Ci ha battata ancora di Vorlanden Niente, siamo in ciabatte, signori Siamo in ciabatte Perché non... Con l'acqua viene meglio scivolare con le ciabatte Castolo mio Meno male Graziato Castolo Graziato Castolo Attenzione a loro Che con una punizione Si trovano già qua Cazzarò di una miseria Con un calcio di punizione Signori Allora, cortesemente Sono stufo di prendere gol Su colpi di testa Cortesemente Vorrei evitare Mi è bastato lo scorso video Che Non mi ricordo chi È andato completamente a fragole E noi abbiamo preso il gol Babangita mio Dovevi partire un poco prima Però cazzarò di una miseria Dovevi partire un poco prima E non stringerti verso il centro subito Matt Grandissimo Matt Che però Babangita non riesce Castello combatte Ma loro ripartono Noi abbiamo Un trattore Una lumaca Su quella fascia Chi cazzarò la Eri Che è così lento Che non Neanche Boh Ecco Ancora un calcio Ancora un cross Attenzione loro Sulla respinta Tiro centrale Ivanov c'è Ivanov c'è Signori Vinciamo 1-0 Cortesemente Proteggiamo questo risultato Tu lancialo Che tanto Lui non c'ha voglia Oggi non c'ha voglia Il bamba L'abbiamo visto già da prima Dalle formazioni in campo Non c'aveva voglia Sì Bravissimo L'ho appena sfiorato E lui giustamente Gli ha dato la punizione Perché da lì Poteva provarci Poteva provare il tiro Grandissimo Castello Che recupera un pallone importante Che però Se ci state lì In attacco Chi ci sta Mia nonna Grandissimo Vorlanden Vorlanden Uomo Uomo di questa squadra Uomo caraggio Vorlanden Bavangita mio Cazzarola Si è fatto pure dribblare In maniera brutta Jorga Va pure lui Aia aia Mamma mia Stromer Stromer non so perché L'abbia presa In questa maniera Cattiva di testa Il passaggio in profondità Per il bamba Non è riuscito Allora riescono a ripartire Niente Dobbiamo prendere per forza il gol Signori Dobbiamo prendere per forza il gol Non solo E lo dobbiamo prendere anche di testa Attenzione Bavangita In seguito da quattro Lo fa fuori Bavangita Grandissimo Che non ha un movimento di Bavangita Che poi cerca il triangolo Dal nulla Il pallone Il pallone era mio Porca Paletta Ambriaca Il pallone era mio Il pallone era mio No Ma stai scherzando Ma vabbè Ci devono fare segnare Gli devono fare segnare Per forza Il gioco ha deciso che Gli deve fare Gli deve fare Per forza il gol Signori E non è normale Non è normale Scusatemi Dai Cazzarola Io posso capire tutto Posso capire tutto Però Però dai Cazzarola Prendi l'input Nel momento giusto Quando te lo do Non dopo mezz'ora Che già ho perso il pallone Aaaaaa Aiaia Aiaiaia Bambam Dove stai? Che cos'era Bavangita Che cos'era? No 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 Dai che gliela dai in profondità No Gliela avevo Gliela avevo levato Sto pallone Dai dai lasciali Gliela lasciali Lascia Lascia E' venuto il tic Mi è venuto il tic Signori Mi è venuto il tic Mannaggia a voi E agli infarti Che mi dovete fare prendere Dai ma Niente signori E si sta giocando A una porta sola Non riesco a tenere un pallone Cioè ci credete Che non riesco a tenere un pallone Non riesco a uscire Gli deve fare pareggiare Per forza Gli deve fare pareggiare Per forza Io non riesco Non riesco a uscire Signori Non è normale Questa cosa Non è assolutamente Normale Guarda Non riesco a uscire Non è questione Di Di Non è proprio Non riesco a trovare Un'azione per uscire Oh finalmente Babangita 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 L'1-2 No 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 Vabbè Dai però Non ci credo Non ci credo Non ci credo Guarda Siamo nuovamente qui Siamo nuovamente qui Siamo di nuovo qui Di nuovo qui Di nuovo qui Niente Pallone Oh meno male Fuori gioco 37 Cioè ci stanno schiacciando In una nera impressione Buttala sotto Perché tu Le conosco le tue manfrine Quindi buttala sotto Leviamo sto pallone Da qua vicino Che è la cosa migliore Riusciamo a fare un anticipo? No Giustamente Non ci riusciamo a fare un anticipo Giustamente Ivano Viv Che schifo Che schifo Signore Che schifo Che schifo Non ho altro da aggiungere Non ho altro da aggiungere Se non che schifo Che schifo Dai Dai Non ho altro da aggiungere Signore Non ho Non ho altro da aggiungere Non è normale Non è normale Non è normale Non riesco a Non No 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 non è assolutamente normale quello che è successo dal dal decimo minuto di questa partita in poi non è normale non è non è assolutamente normale non è assolutamente normale babangita c'è voglia di io capisco che non è volto da una piccola diagonale non ci hanno mai corso non ci hanno mai corso in piccola diagonale ammazza lord stai zitto ho detto vedere che me lo butta pure fuori praticamente gli ha regalato questa condizione minuti in recupero che lui la butterà la palla al centro o meno male metto ha fatto una cosa giusta metto finora ha fatto una cosa giusta noi ripartiamo l'abito fischia giusto c'è ronaldo non ha toccato un pallone non sono riuscito mai a superare la metà campo c'è qualcosa di schifoso c'è qualcosa palesemente disco fuori io capisco che i miei giocatori non ci hanno voglia che sono tutti stanchi in tutto questo la fiorentina sta perdendo contro il dortmund questo potrebbe essere un risultato importante per noi è un risultato importante che dobbiamo però sancire con una vittoria perché se non vinciamo il risultato importante guarda l'ol bamba rientra rientra babangita rientra babangita rientra babangita no 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 frustrazione frustrazione proprio nervosissimo 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 e se giochiamo con il nervosismo signori non andiamo da nessuna parte ora questa palla la perdiamo e lo sapevo preciso perché è tutto già è tutto già stabilito babangita babangita nettamente in ritardo però riesce a crearsi lo spazio finisce fuori no troppo facile se finiva fuori no ci riesce qualcuno andare su sta cazzola di fascia ok proviamo questo pallone centrale ronni avevi il passaggio semplice ronna avevi il passaggio se perché ci dobbiamo complicare la vita riesce a le varie lo so mamma mia guarda valeri subito met met guarda guarda ronni che guarda bamba che parte non parte mai ron bamba cioè ho comprato ronaldo per avere quel 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 piglio in più e non mi si è rotto e non riesco a fare nulla o porca miseria o porca miseria babangita perde palloni assurdi questi di testa riescono ad arrivare lì va bene va bene va bene va bene calma calma devo solamente trovare un gol signori uno me ne serve uno me ne serve cazzarola uno me ne serve porca miseria infame uno me ne serve uno mio però non uno loro è giusto uno mio uno mio me ne serve babangita si che salta di testa vabbè no butta la sotto per cortesia mi conosco le guarda l'angelo babangita no 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 grande grande diciottesimo risultato fermo sull'uno a uno signori risultato fermo sull'uno a uno palone per babangita che decide di partire lui babangita 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 si allarga ancora su quella fascia per cercare di diventare imprendibile babangita babangita vede addirittura ronaldo la gira per babangita per no dai però mi devi fare un attimo ragionare porca miseria porca di una paletta ambriaca o porca miseria babangita dai riparti babangita che c'era di nuovo lo spazio per andartene dai babangita dai babangita dai babangita se ronaldo stava stava bene gliela dai babangita provaci cioè stiamo scherzando stiamo scherzando stiamo scherzando cosa appena è successo cosa è appena su no ronni mio cosa cazzarone appena successo c'è castolo sulla respinta del portiere no 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 non mi puoi tenere in campo quel pallone non me lo puoi tenere in campo ivanov ne hai cinque li cazzarone lo trovi uno a cui passare sto pallone sì ce l'abbiamo fatta dai bamba trentaduesimo 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 abbiamo avuto due occasioni bellissime la buttiamo fuori la buttiamo fuori vabbè lì l'avrei persa comunque lì l'avrei persa comunque perché dai no no mi partono gli urli no 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 guardalo vai cellini con calma vai cellini con calma babangita avevi le fraterie bamba vai bamba vai bamba dai bamba dai bamba dai bamba dai bamba cazzarone che grandezza del babangita che grandezza del babangita no 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 non ci credo non ci credo non ci voglio credere signor non ci voglio credere che non ci voglio credere Non ci voglio credere Pareggiamo 1-1 contro l'Ajax No, sono Fiorentina perde contro il Dortmund Chelsea vince contro il Leeds Non ci posso credere No signori, sono proprio Non ci posso credere Non ci posso credere Abbiamo fatto tutto noi Abbiamo fatto il gol del vantaggio Abbiamo fatto l'autogol Abbiamo fatto cosa si è mangiato a Castello Come cazzo la te chiami Che nervi Saremo a 28 punti Siamo a seconda in classifica Un punto in più della Fiorentina E 3 punti in meno del Dortmund Non ci posso credere Non ci posso credere signori Comunque Oramai è andata Oramai è andata 1-1 contro l'Ajax Rimangono le ultime sette partite Signori Rimangono le ultime sette partite Contro Marsiglia Dortmund Leeds Chelsea Fiorentina West Ham E Ajax Dopodiché Sarà o promozione O un'altra stagione In serie B Ma tutto questo Lo vedremo assieme Nei prossimi video Detto questo signori Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao Grazie.